La stagione estiva sta per ripartire e a Nocera Inferiore si ritorna al Jets con la prima edizione di Nocera Jets Festival. Un nuovo e ricco calendario di concerti in programma a partire dal 1 luglio. Si esibiranno le migliori proposte del Jets contemporaneo italiano e internazionale con alcuni focus specifici dedicati ai nuovi talenti italiani e stranieri, alle nuove tendenze, alle grandi orchestre, ai virtuosi di basso, chitarra e sassofono e alla contaminazione. Oltre 30 i concerti che si susseguiranno sul palcoscenico più suggestivo dell'agronocerino sarnese. Abbiamo coinvolto artisti jazz tra virgolette tradizioni come Paolo Freso che chiuderà il 15 luglio con i suoi Devil Quartet Fantastica con un grande pallino della porta. Abbiamo coinvolto Serena Brancale che è attualmente una delle voci più importanti in assoluto in Italia che racchiude un po' la black music, cioè il soul, il jazz, il funk, l'hip hop con un batterista che si chiama Dario Panza Fantastica, con un tasto di disco che si chiama Domenico Sanno, molto bravo, ed è una voce che anche Quincy Jones l'ha apprezzata. A collaborazione con Richard Bona nel suo ultimo album, Siamo Fieri, che apre questa rassegna il primo luglio. Ci sarà Tony Morell che è un artista della black music britannica, per vent'anni leader, lead vocals degli incognito, con il suo quartetto farà un concerto di musica black, con anche umaggio a Steve Wonder, con una versione di Golden Lady che a Bruno di Tokyo è stata apprezzata appunto anche da Steve Wonder. Ci sarà poi un doppio concerto il 12 di luglio al Parco Fienga, qui al castello, con Ilaria Capalbo, io sono fiera di questa bassista napoletana che è scappata in Svezia cinque anni fa, ora insegna al conservatore di Stoccolma, ha avuto collaborazione con enormi artisti della scena jazz svedese, sarà con Federick Nordstrom della Blue Note Records e faranno una variazione su grandi temi del jazz. La stessa sera avremo Anthony Strong che è un crooner più su mainstream con il suo trio inglese che presenterà il suo ultimo album, si chiama Selling. Molto bello il suo set, molto bello l'album e farà la terza serata qui al castello. Ci sarà poi una doppia serata ancora, ci piace fare con visioni, con connessioni, la doppia serata è con Anna Federson, è una cantante angolo francese, pianista, tastierista, cantante, viene dal gospel, dalla musica sacra, dal blues e dal jazz, molto interessante, piano, loop station e voce, ed è una cantante incredibile, fa parte di una scuderia, di un'etichetta francese che ho scoperto a Parigi, che si chiama Natural Music Records e la stessa sera sarà presente Andrea Manzoni Trio. Andrea Manzoni è un pianista eccellente, 40 anni, ha girato il mondo. Abbiamo questa etichetta, Natural Music Records, si chiama Natural Music Records Night, appunto, la sera del 12 a Palazzo Vescovile. Il 14, ritornando al castello, avremo la grande Chiara Civello, apprezzata da Bart Bacarac, da Tony Bennett, che presenta l'ultimo album Sono Come Sono. E chiudiamo, atteso anche questo appuntamento, fa parte insomma di un tour che sta andando molto bene in Italia, Chiara poi farà anche qualcosa di bossa di Brasile, avendo vissuto per tanti anni in Brasile, collaborato con Anna Carolina, con Gilberto Cile, con Caetano Veloso e tanti altri. Chiuderemo il concerto, il 15, al Chiostro di Sant'Antonio con la grande tromba, il grande virtuosismo di Paolo Fresa, il suo Devil Quartet. E voglio ricordarvi anche che a fine concerto, gli after show dei concerti, ci saranno alla tenuta caldieri, si svolgeranno con DJ set, drink e festa. Si riparte dopo 13 anni per una nuova rassegna e una nuova formula del jazz, che sarà il Nocera Jazz Festival, a malincuore e con grande tristezza si dà un arrivederci, un probabile addio a Nocera Jazz in Parco. È un evento che per me è sempre stato qualcosa di straordinario, che è stato creato da alcune persone alle quali... Possiamo nominare. Per le quali hanno avuto una stima infinita, una di queste purtroppo non c'è più. Aldo Di Vito, che si è inventato un poco con i due amici, Elia Pirollo e Ondina San Dino, questa formula nel 1998, diciamo che grazie a loro si è un po' più dato lustro a questo luogo e quindi sulla scorta e di quello che è stato fatto in passato si riparte più carichi di prima e con grande entusiasmo e quindi si riparte con questa rassegna, anche perché non dimentichiamo che Nocera e un poco è stata per tanti anni, non solo in provincia, la patria del jazz.